Dopo due giorni durante i quali i numeri dell'emergenza in Abruzzo stavano progressivamente alzandosi in maniera preoccupante, oggi la nostra regione per fortuna fa segnare il doppio zero. Nessun nuovo contagio infatti e nessun nuovo decesso. E così il numero di casi complessivi di persone che hanno contratto il covid-19 rimane a 3.309. Questo l'esito dei test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'istituto zoo profilattico di Teramo, dall'università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale di Pescara. 30 pazienti, numero invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Zero, numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 126, meno 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Le vittime dunque rimangono a 464, mentre sono 2.689 i dimessi e i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi dei guariti e dei deceduti sono 156, con una diminuzione di 7 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 110.126 test. Del totale dei casi positivi 229 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1.592 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per tre casi non è indicata la provenienza.